Ancora droga in ossola. I carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Domodossola hanno denunciato due uomini, un quarantenne e un trentenne, entrambi residenti in zona. Nelle prime ore del mattino, durante un servizio di pattugliamento nel centro della città, l'attenzione dei militari è stata attirata dal trentenne, già conosciuto alle forze dell'ordine per reati in materia di stupefacenti, mentre usciva frettolosamente dall'abitazione di un'altra conoscenza dei carabinieri, un quarantenne, anche egli con diversi precedenti per droga. Da qui il controllo del primo uomo, che da subito ha mostrato in sofferenza, forse proprio perché addosso nascondeva circa 6 grammi di cocaina, confezionata e pronta all'uso, subito posta sotto sequestro. Recuperata la prima tranche di stupefacenti, i militari hanno perquisito anche l'appartamento del quarantenne, dove sono stati sequestrati altri 20 grammi di hashish e un grammo di cocaina. Entrambi dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.